Now this come from inside, how long do i... Oh, ehi Foxy! Oh, ehi Springy! Che fai di bello? Nulla di che, sto soltanto cercando di vedere la cronologia del vecchio Foxy. Aspetta, quale vecchio Foxy? Me o l'altro? Intendo l'altro. Vuoi dare un'occhiata con me? Certo! Ok, quindi clicchiamo questo tasto e... Dove ho messo il mio laptop? Pensavo di averlo lasciato. Amico mi spieghi del cazzo di problemi ag...